L'altezza delle navi barbare non è un problema da poco, come fa notare Labieno, perché così è impossibile colpire i nemici scagliando dal basso i dardi con sufficiente efficacia. A questo si aggiunge un altro problema, come sottolinea Cesare. Al contrario, i dardi scagliati dai galli cadranno con maggiore violenza. Che fare a questo punto? Come risolvere il problema dell'altezza delle navi? Labieno ha un'idea. Falcibus preacutis preparatis, preparate delle falci affilatissime, et longuris ad fixis, e saldamente fissate a pertiche, longuris, nostri funes qui antemnas ad malos destinant, compreendent, et adducent. I nostri, compreendent, et adducent, prenderanno e tireranno le funes, cioè le sartie, qui antemnas ad malos destinant, che legano destinant, le antenne, antemnas, agli alberi malos. Le antenne sono aste legate all'albero della nave cui è fissata la vela, mentre le sartie sono i cavi utilizzati nelle imbarcazioni a vela per sorreggere l'albero.